Putin ha riconosciuto le due regioni separatiste dell'Ucraina orientale come entità indipendenti. L'annuncio è arrivato nell'ottavo anniversario delle proteste filo-occidentali Euromaidan di Kiev del 2014. Questo permette alla Russia di spostare le proprie truppe all'interno delle repubbliche e entrare formalmente in territorio ucraino. Parlando in tv, Putin ha negato l'esistenza dell'Ucraina come stato. Cosa che molti hanno preso come una dichiarazione di voler restaurare la sfera di influenza dell'ex Unione Sovietica. Putin ha poi firmato l'ordine di invio di quello che ha definito forze di pace nelle regioni separatiste. Nella notte sono stati avvistati carri armati entrare nei territori ucraini. Infine Putin dichiara che è la Russia ad essere ricattata, militarmente e con sanzioni. We will always find an excuse to introduce more sanctions. Grazie. Grazie.